È il giorno della riapertura delle palestre anche all'interno. All'Aquila già da un po' tutte si erano organizzate percorsi da tenere all'aperto con i clienti che pian piano erano tornati a riassaporare la compagnia di istruttori e corsisti. Ora si torna all'interno con regole e protocolli rigidi. All'Aquila qualche palestra ha riaperto oggi, altre riapriranno la prossima settimana. Tra le palestre più longeve della città c'è lo Sporting Center con Alfonsina Scimia che viene da 30 anni di attività e condivide la sua passione con diversi soci. Dopo un anno di chiusura totale, anche se ci sono stati sporadici momenti di riapertura, ma sono stati talmente deboli nei confronti dell'attività che si possono anche non considerare. Siamo contenti, i clienti speriamo che ritornano fiduciosi a ripraticare l'attività sportiva. Noi abbiamo una struttura piuttosto ampia, luminosa e areggiata e quindi non ci sono problemi di sicurezza, problemi di contagio, di assembramento. Abbiamo svolto fino adesso qualcosa all'aperto per cercare di far tornare un minimo di normalità ai nostri clienti. e aspettiamo con piacere, anche se questo periodo di riapertura non è dei migliori, visto che andiamo incontro all'estate, e sperando che non ci facciano richiudere nuovamente perché sarebbe la morte proprio del settore. I protocolli da seguire sono molto rigini, sin dall'ingresso del resto la semplice pulizia degli attrezzi dopo l'utilizzo era già a prassi consolidata. Il nostro protocollo è molto rigido, già c'è bisogno della prenotazione prima di venire in palestra, poi bisogna firmare l'ingresso, in più non si possono fare le docce per questo periodo e bisogna sempre disinfettare prima e dopo l'utilizzo degli attrezzi. Abbiamo visto che anche nelle sale avete messo delle delimitazioni, anche per dare il senso di come ci si può muovere all'interno della sala per essere distanziati. Sì, abbiamo delimitato proprio gli spazi così ogni persona è al sicuro e si mette nella sua postazione e non ha problemi.